49 medici specializzanti all'Ateneo Molisano, c'è il via libera dal Ministero della Salute, un'opportunità per risolvere l'emergenza legata alla carenza di medici. La Regione chiede aiuto al Governo nazionale per far fronte a un pesante bilancio in deficit, dibattito oggi in Consiglio regionale. Basta toleranza contro i violenti nelle carceri, la denuncia del sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria, inascoltati gli appelli degli agenti e l'abbandono delle strutture. Attira attenzione il baschi in una disciplina per normodotati e disabili sul parquet di Palacanestro, in corso gli Open Day nella palestra di via Trivisonno a Campobasso. Buona serata dall'informazione giornalistica di TLT. Con decreto ministeriale dell'Università sono state accreditate da Roma tutte le scuole di specializzazione di area medica, con una dotazione completa di borse e di disponibilità di posti per formare 49 futuri specializzanti nel settore medico-ospedaliero a partire dal primo novembre e per i prossimi anni. Significa avere anche in Molise sin da subito 49 medici specializzanti senza gravare sul bilancio del sistema sanitario regionale, in quanto le borse saranno a carico del Ministero dell'Università e della ricerca 4 alle nuove scuole attivate, malattie dell'apparato cardiovascolare, microbiologia e virologia, medicina interna e ginecologia. Passiamo alla politica. Il Consiglio regionale oggi a Campobasso si è occupato ancora una volta del bilancio, volendo chiudere la partita potete trovare il modo di un rilancio delle economie, anche programmando nuove fasi di sviluppo. L'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale ancora presenta punti centrali e significativi, quelli che riguardano l'esercizio finanziario, un viraggio da approvare in modo da rilanciare l'economia nell'intero territorio e programmare le tante fasi dello sviluppo. Intanto sono ben 22 le partecipazioni che mostrano delle teri conti in rosso. Innanzitutto molte di queste sono appunto come già stato evidenziato in Consiglio in rosso e il loro bilancio poi ricade sul bilancio regionale. Alcuni di questi invece sono in fase di liquidazione quindi bisogna necessariamente arrivare al termine di chiuderle, altre vanno accorpate per creare un'unica struttura che possa essere funzionale anche in termini di dipendenti. C'è un programma elettorale all'interno del quale ci siamo prefissati questo obiettivo anche per ridurre i costi e soprattutto per iniziare a percorrere un processo virtuoso per ridurre i costi della politica. Una visione economica quella che traspare dalle note del bilancio che mostra un debito ingente solo in parte ridotto per alcune scelte della maggioranza consigliare come sottolinea l'assessore Cefaratti che richiama l'attenzione del governo centrale. Il debito esiste però bisogna essere fiduciosi sapevo di quanto gravoso fosse questo compito però devo ringraziare il Presidente Roberti che mi sta dando piena fiducia rispetto al compito stiamo portando avanti tutte quelle attività che sono propedeutiche all'approvazione del bilancio 2023 in serenità grazie alla collaborazione di quella struttura assolutamente carente in termini di unità ma assolutamente attiva rispetto a quello che stiamo facendo per cui sono fiducioso certamente c'è un grandissimo lavoro da fare perché probabilmente il bilancio è stato abbandonato a se stesso per dieci anni è inutile negarlo e allora con il lavoro possiamo pensare di ottenere buoni risultati chiaramente abbiamo migliorato solamente il deficit di 10 milioni di euro invece che di 19 verranno poste atti conseguenziali sul bilancio 2023 proprio per cercare il di recuperare questo deficit che si è generato anche nel 2022 anche se in assoluto non c'è stato un deficit perché abbiamo migliorato i conti di 10 milioni di euro che sono cosa di non poco conto anche in relazione al fatto che davvero credo che tutte quelle partite che andavano pagate innanzitutto il contratto con RFI che andava onorato e negli anni precedenti non era stato onorato non rappresenteranno un debito fuori bilancio per cui sono fiducioso. È chiaro che la settimana prossima avremo un incontro a Roma con il MEF, con Giorgetti perché abbiamo davvero necessità di un aiuto importante. Abbiamo detto, abbiamo annunciato che sarà richiesto anche un piccolo sacrificio ai cittadini molisani ma di questo sacrificio potrebbe varirne la pena soprattutto se da Roma arriveranno risorse importanti per permetterci come ho detto in qualche altra intervista non più di galleggiare ma di emergere e poter dare risposte al territorio, agli imprenditori, i cittadini, a quanti si aspettano da noi tanto. Quindi c'è fiducia, c'è su questa attenzione come dire del Governo centrale? Ma ci deve essere necessariamente. Hanno preso degli impegni già con i nostri parlamentari che sono coinvolti in questo processo che guarda un Molise diverso, un Molise migliore e adesso devono darci delle risposte. Le risposte le attendiamo, le pretendiamo, mi permetto di dire perché le promesse elettorali non possono rimanere promesse ma si devono tradurre infatti. sempre in consiglio regionale oggi un minuto di silenzio per rendere omaggio all'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel giorno dei funerali di Stato. 70 anni di vita politica istituzionale vissuti da Napolitano con pienezza di idee, ampiezza di vedute, capacità di sintesi e operatività decisionale hanno ricordato nell'Assemblea di via 4 novembre. E siamo adesso all'ampia pagina della cronaca. Il Commissario per la ricostruzione Donato Toma ha incontrato gli amministratori dei Comuni interessati dal sisma dell'estate 2018. si parla di una possibile riapertura delle domande per ricevere i fondi necessari agli interventi. Il contributo? Attendono ancora gli interventi di ricostruzione i Comuni del Basso Molise che il 16 agosto del 2018 sono stati colpiti da un terremoto di circa 5 gradi della scala Richter. Ieri mattina il Commissario per la ricostruzione Donato Toma, nella sede del Consiglio regionale di via 4 novembre, ha incontrato i sindaci dei Comuni colpiti dal sisma. Attualmente si sta valutando la possibilità di prorogare le domande per beneficiare dei fondi destinati agli interventi sugli edifici danneggiati, con la necessità di gestire le risorse economiche da destinare agli edifici pubblici e a quelli dei privati cittadini. Abbiamo impegni sui 39 milioni che abbiamo in cassa per circa poco meno di 35 milioni di euro. abbiamo fatto una riunione con i sindaci del cratere per capire i prossimi passi da fare, in particolare se riaprire o meno i termini per 30 giorni, avvisando i sindaci che la riapertura dei termini per 30 giorni per le ricostruzioni private avrebbe potuto, potrà comportare una riduzione del residuo circa 5 milioni di euro da utilizzare poi per le sedi comunali. Quindi abbiamo dovuto decidere come volevamo operare. Ci siamo lasciati che faremo un sopralluogo nei prossimi 15 giorni per capire se ci sono sedi comunali che hanno la necessità di interventi, quindi opere pubbliche e sedi comunali. Se ce ne sono e assorbono molti di quei fondi residui probabilmente non si riaprirà per i privati. Se invece i fondi residui rimarranno in parte ancora residui potremmo riaprire per i privati. Quando chiedemmo maggiori fondi non c'era il 110, non c'erano i bonus fiscali. Oggi i cittadini possono optare per la ricostruzione ma possono optare anche per i bonus fiscali. Quindi questo significa che i fondi che noi avevamo previsti si potrebbero liberare per interventi ulteriori. Io ho fatto 13 decreti di concessione a privati, però c'è ancora molto da mettere in campo perché la ricostruzione parte dopo che c'è il decreto di concessione. Il decreto di concessione di finanziamenti si attiva nel momento in cui vengono terminate le istruttorie. Nel riaprire, nel fare diverse cose, abbiamo fatto molte proroghe, chiaramente sono arrivati in tempi diversi progetti differenti per cui le istruttorie sono ancora in corso per la maggior parte dei progetti arrivati. I sindaci sono molto concentrati sul recupero delle strutture, delle sedi comunali. Non sanno se ci sono molti progetti. Anzi, qualcuno che ha presentato il progetto, qualche privato che ha presentato il progetto potrebbe addirittura rinunciare al contributo per la ricostruzione perché è più conveniente il sisma bonus o il 110. Aumenta il fronte del no al progetto del gruppo Enel denominato Pizzone 2. Per fermare la realizzazione del progetto che prevede opere per la costruzione di una centrale idroelettrica nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, si è costituito un nuovo coordinamento di cittadini. La proposta di Enel prevede tra l'altro lo scavo di 10 km di gallerie tra le mainarde e la produzione di un milione di metri cubi di materiali inerti in un luogo unico dal punto di vista della biodiversità naturale. È dovere della classe politica molisana preservare il comparto industriale nell'area di Termoli, in particolare la Gigafactory del gruppo Stellantis. L'ex stabilimento Fiat per la realizzazione di accumulatori per autoveicoli con produzione a regime dal 2030. Sul percorso di garanzia occupazionale delle maestranze le organizzazioni sindacali esprimono ancora la loro preoccupazione. Di nuovo violenza alla casa circondariale di via Cavour dove un detenuto ha di nuovo aggredito un sovrintendente di polizia penitenziaria e un medico. A riferire la notizia è stato il segretario del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo che puntualmente sottolinea i disagi e i problemi all'interno delle carceri molisane. L'ultima in ordine di tempo è la vicenda che ha riguardato un detenuto della casa circondariale di Campobasso che dopo aver colpito il dottor Pasquale del Greco nel corso di una visita medica ha di nuovo attuato un comportamento violento aggredendo con calci e pugni un sovrintendente della polizia penitenziaria dopo averlo spinto e gettato per terra ed un medico psichiatra. È una situazione veramente molto complessa sulla quale bisogna assolutamente intervenire perché non è consentibile che anche in una regione così piccola ci siano episodi del genere. Sarebbe servito che cosa? Allontanare immediatamente questo detenuto per evitare soprattutto che ricommettesse e continuasse a delinquere. Però il problema di fondo è anche un altro. Io vi racconto questo episodio di questa notte nel carcere di Larino, un episodio già successo nel quale un detenuto è stato portato in ospedale in tutto il carcere, con carcere altra sicurezza, c'erano sei agenti di cui due sono dovuti andare in ospedale e quattro sono rimasti a sorvegliare il carcere. Inadeguato per il carcere, inadeguato evidentemente per una scorta che porta un detenuto in ospedale. Serve personale, serve personale, ne serve veramente tanto e noi abbiamo già discusso negli scorsi giorni un problema che a livello nazionale è diventato impressionante, quello della fuga dei medici. Io spero che non succeda anche nelle carceri molisane perché le violenze, le vessazioni a cui sono sottoposti i sanitari, i medici, ma anche gli invermieri poi portano purtroppo a dover anche a consentire a qualche ricovero in più per cercare di garantire l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto. Di disfunzioni e scelte sbagliate nel passaggio di consegne dell'amministrazione carceraria centrale alle regioni, parla anche il medico colpito giorni fa, che lamenta la mancanza di ricambi adeguati nella gestione complessiva sanitaria. Dal 2008, in cui la sanità è passata al ministro della giustizia, alle regioni, e secondo me questo è stato uno dei guai più grossi combinati, intanto perché noi abbiamo una sanità ormai fatta diversa da regione a regione. Nel campo penitenziario questo è un dramma. La situazione molisana è che noi attualmente siamo 7 medici dalla vecchia guardia, tutta gente della mia età, 60 anni, canonizzato 20-30 anni fa e noi resistiamo. Però già vi una cosa, è stato fatto un bando per 10 posti, abbiamo risposto solo noi 7, quindi altra gente non ne avremo. Io spero che nessuno di noi della vecchia guardia decida di lasciar perdere. Io francamente, personalmente, i miei figli mi dicono ma chi te lo fa fare? Presidio sindacale in piazza Gabriele Pepe domattina a Campobasso indetto dai sindacati CGL Cisle Willi in occasione dello sciopero nazionale unitario IOP RSA. La protesta si impone come forma di solidarietà per una categoria di operatori sanitari che in altre regioni garantiscono la propria professionalità nella cura delle persone fragili. Ancora cronaca, a Campobasso è stato arrestato un quarantenne che prendeva di mire i distributori automatici della città. L'uomo è stato bloccato dopo aver messo a segno un colpo in pieno centro cittadino. E' stato inseguito, fermato e arrestato dai carabinieri del nord di Campobasso il ladro quarantenne che aveva appena messo a segno un colpo in pieno centro. L'altra notte a seguito di segnalazione al 112 da parte del proprietario di un locale commerciale, la centrale operativa ha inviato la pattuglia della sezione radiomobile presso uno sciopo automatico H24 di cibi e bevande. All'interno c'era un uomo con il volto nascosto da cappuccio e mascherina chirurgiche con in mano strumenti di effrazione. Stava forzando uno dei distributori automatici per portare via il denaro. I militari lo hanno sorpreso mentre usciva dal locale. Il quarantenne, con numerosi precedenti a suo carico, ha provato a darsi alla fuga ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato. sotto posto a controllo è stato trovato in possesso di attrezzi atti allo scasso, non chiedi circa 60 euro in monete provento di furto. Gli arnesi e il contante rinvenuti sono stati sequestrati mentre l'uomo accompagnato in caserma è stato arrestato e confinato agli arresti domiciliari. Ieri a seguito di udienza di convalida è stato trasferito in carcere. Le telecamere presenti all'interno del locale hanno consentito di effettuare in tempo reale tutte le verifiche del caso e si sono rivelate un ottimo strumento utile alle indagini. Difatti il sistema di videosorveglianza con notifiche immediata degli accessi monitorati costantemente dal titolare dell'attività commerciale tramite un'applicazione sul cellulare ha consentito di verificare nell'immediatezza il furto in atto e darne subito notizie carabinieri. I successivi riscontri investigativi anche attraverso l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e la comparazione delle modalità di commissione dei furti hanno consentito ai carabinieri di identificare l'uomo arrestato come l'autore di un furto verificatosi alcuni giorni prima nella stessa attività commerciale. Quanto accaduto evidenziano dal comando provinciale dell'arma conferma ulteriormente che la collaborazione tra le forze dell'ordine e la cittadinanza è fondamentale per contrastare efficacemente l'attività dei criminali e costruire una comunità più sicura. A Casal Bordino oggi è stato lutto cittadino in occasione dei funerali di Giulio Romano e le 56enne abruzzese dipendente della Sabino Esplodenti, perito assieme ad altri due colleghi nella deflagrazione in fabbrica avvenuto il 13 settembre scorso nel paese in provincia di Chieti. Le avverse condizioni meteo delle ore scorse non hanno permesso ai pescherecci della marineria termolese di uscire in Adriatico e pescare dopo il fermo biologico. Il tempo migliorerà però a partire ancora una volta da domani. Domenica scorsa scadeva il fermo biologico della pesca. Teoricamente la frattida di motopescherecci termolesi avrebbe potuto riprendere il mare per tornare dopo 40 giorni di fermata in mare a lavorare. Ma di traverso questa volta si sono messe le condizioni meteo avverse. La maggioranza delle barche, come si evince anche dalle immagini, sono rimaste ancorate in porto e se il tempo si rimetterà vorrà dire che chi non è potuto uscire fin da domenica scorsa potrà farlo nei prossimi tre giorni, visto che le uscite in mare programmate per legge sono tre giorni alla settimana di pesca da giostrare appunto nell'arco dei sette giorni. Stando alle previsioni meteo, mercoledì ci dovrebbero essere dei miglioramenti e probabilmente molti di loro potranno uscire finalmente a lavorare. Per la cronaca sono rimaste ancorate anche le due imbarcazioni che fanno la scuola tra Termoli e le isole Tremiti. Tutelare le tradizioni della cucina italiana attraverso iniziative culturali idonee a diffondere la conoscenza dei valori della civiltà della tavola per festeggiare i 70 anni di vita, l'Accademia Italiana della Cucina ha organizzato a Campobasso sabato 30 alle ore 17 un convegno sulla storia del caffè dalla piantina alla tazzina, il dibattito al circolo sannitico. Furto aggravato in concorso, questa è l'accusa formulata dalla Polizia del Commissariato di Termoli che ha denunciato una coppia pugliese, entrambi i residenti a Foggia. La Polizia di Stato del Commissariato di Termoli ha denunciato in stato di libertà la competente autorità giudiziaria a due persone, un uomo e una donna, entrambi i residenti a Foggia per il reato di furto aggravato in concorso. Nella tarda mattinata dello scorso 9 settembre, a seguito di una chiamata pervenuta sul numero di emergenza del 113, una volante del commissariato è intervenuta presso una nota attività commerciale di prodotti elettronici sita nella cittadina adriatica per la consumazione di un furto avvenuto poco prima. Come riferito agli agenti, dal personale addetto alla vigilanza erano stati asportati dagli scaffali del negozio un router ed un ripetitore di segnale wifi. I due complici infatti erano riusciti a privare tale materiale delle targhette adesive antitaccheggio e ad occultarlo nella borsa della donna. Grazie anche ad alcune testimonianze, i poliziotti hanno dapprima rintracciato i due sospettati della commissione del furto, nonché individuato poco dopo l'autovettura utilizzata dai malviventi, che si trovava in sosta in un'area di parcheggio poco distante dall'esercizio commerciale. A seguito della perquisizione effettuata sull'auto è stata rinvenuta all'interno della stessa l'intera refurtiva che dopo i consueti accertamenti di rito è stata riconsegnata al direttore dell'esercizio commerciale. Da sabato 30 a martedì 3 ottobre il Molise sarà presente al Festival Nazionale L'Italia delle Regioni che si svolgerà a Torino. Nella manifestazione di quest'anno si discuterà di mobilità, logistica, energia, ambiente, sanità, innovazione e istruzione. All'evento nel capoluogo piemontese presenzierà il capo dello Stato Sergio Mattarella. Transumanza è questo il nome scelto dai finanzieri di Pescara per una maxi-operazione che ha individuato alcune decine di persone coinvolte in truffe milionare all'Unione Europea. I numeri sono questi. 75 soggetti identi coinvolti, 25 misure cautelari personali, 16 perquisizioni e sequestri preventivi in esecuzione. Le storie riguardano l'utilizzo di molti mezzi, compreso quelli aerei del reparto operativo aereo navale di Pescara. I luoghi sono quelli situati in quasi tutta Italia, in particolar modo tra Abruzzo, Puglia, Trentino, Alto Adice, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania. Un giro di affari illecito, milionario, sul quale si sospetta fortemente l'organizzazione della mafia foggiana, visto e considerato il coinvolgimento di affiliati alle organizzazioni criminali del Gargano. Tutto questo è la maxia operazione della Guardia di Finanza di Pescara, denominata Transumanza, che riguarda tutta una serie di truffe ai danni dell'Unione Europea, truffe attivate per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Indagini durate almeno due anni, svolte attraverso l'acquisizione di documenti, intercettazioni per oltre 100.000 conversazioni, oltre 8.000 interrogazioni rivolte alle banche dati e tantissimi accertamenti bancari su più di 270 conti correnti. Parliamo di danni ingenti a danno del bilancio nazionale e comunitario, attuato attraverso indebite richieste di contributi per il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia nel settore della politica agricola comune. Una truffa colossale a Bruxelles, da un'associazione per delinguere preparata, operativa fin dal 2014, di cui farebbero parte 13 persone che avrebbero simulato il possesso dei requisiti richiesti e necessari per ottenere la disponibilità di terreni. Nuove imprese agricole, dunque, che secondo le indagini sarebbero state in computa con altrettante cooperative agricole o associazioni di imprese, tutte costituite per acquisire migliaia di ettari di terreno, la cui concessione per uso civico era bandita dai comuni. Le frodi ammonterebbero ad almeno 5 milioni di euro. Le somme sequestrate sono quelle di 24 imprese e 38 soggetti accusati a vario titolo di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ricettazione, truffa aggravata ai danni dello Stato e per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Intanto, in tutto questo, sembrerebbe che il Molise non sia affatto coinvolto. In occasione dei festeggiamenti dei Santi Cosme e Damiano, questa sera a Di Sernia, concerto musicale del gruppo Folk Malembe Evolution, appuntamento in Piazza Andrea, Di Sernia. Adesso spazio come ogni giorno, al meteo. Metalimpianti Carpenterie metalliche civili e industriali Scale Acciaio corten Serramenti in alluminio PVC E legno alluminio Metalimpianti Boiano Info 0874 77 34 54 La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo. Torna il caldo e l'alta pressione sull'Italia centrale. Le temperature odierne in Molise sono previste dalla minima di 13 gradi a Campobasso fino alla massima di 24 a Di Sernia. Per l'Abruzzo dai 12 dell'Aquila e 26 gradi di Pescara Cielo prevalentemente stellato dalla sera Ventilazione settentrionale Calmo il mare adriatico Sulle due regioni domattina i valori atmosferici saranno in ulteriore rialzo Cielo limpido Correnti deboli da nord Siamo alla pagina sportiva nato in Lombardia nel 2003 Il basking si va affermando come disciplina sportiva inclusiva per eccellenza Open Day a Campobasso nella palestra dell'Istituto Superiore Pertini di Via Trivisonno Sport e inclusione normodotati e atleti con disabilità fisica ma anche maschi e ragazze è il basking Professore di cosa si tratta? Si tratta di una disciplina da due anni riconosciuta anche dal CIP attraverso l'unico ente di promozione sportiva che è l'AISI ed è effettivamente una delle attività che sta attirando l'interesse di tantissimi perché è l'unica disciplina che consente di giocare tutti insieme da tutti la stessa possibilità normodotati, disabili, donne, uomini come hai detto tu e tutti concorrono alla riuscita del risultato finale con un grande agonismo che è anche una componente di questo gioco Questa disciplina è nata in ambito nazionale a Cremona 20 anni fa nel 2003 a che punto siamo in Molise? Nasce a Cremona in una scuola 20 anni fa il basking nel Molise nasce nella nostra scuola che è l'Istituto Pertini-Montini-Cuoco in palestra in una palestra dove abbiamo sperimentato sei anni fa questa attività e l'abbiamo ritenuta uno strumento molto adatto per la crescita di ognuno ed è diventato un nostro punto di riferimento un nostro marchio e adesso vorremmo poter portare avanti questa attività l'anno scorso abbiamo fatto un campionato nella Puglia essendo l'unica squadra del Molise quest'anno vorremmo poter tentare di fare un campionato nel Molise purché riusciamo a formare quattro squadre due se ne sono già formate due contiamo di farle appena riusciamo a fare un corso di formazione il 24 lo anticipo il 24 di ottobre per tutti gli operatori sportivi e non che ci dia la possibilità di formare qualche altra squadra stiamo vedendo alle sue spalle una partita una dimostrazione dei vostri ragazzi in questa nuova disciplina cosa si può fare per migliorare e vediamo ancora sei canestri quali sono anche le novità dal punto di vista tecnico noi adesso faremo questi open day venerdì 29 sempre dalle 3 alle 15 alle 17 stiamo accogliendo dei ragazzi curiosi perché l'anno scorso con le varie iniziative la Coppa Italia e il campionato abbiamo veramente suscitato grande interesse intorno a noi e per questo vi ringrazio anche dell'attenzione che state dando voi della stampa e adesso stiamo facendo solamente diciamo conoscere alcune così regole di questo baskin ma sostanzialmente possono giocare a baskin tutti quelli che corrono oggi sono tutti quelli che giocano ai canestri grandi colori quali non possono correre per una disabilità giocano lo stesso e i canestri valgono allo stesso modo ai canestri laterali a dei canestri laterali posti a metà campo adesso noi non ne abbiamo di questi ruoli però quando ci saranno quindi ecco perché veramente il baskin è aperto a tutti cioè veramente possono giocare tutti anche i principianti tutti colori quali diciamo vogliono cimentarsi sono i bene accetti questa attività nostra proseguirà ovviamente dopo gli open day tutti i lunedì e i venerdì presso la palestra del centro sportivo Pertini in via Trivisonno dalle 15 alle 17 di tutti i lunedì e venerdì siamo in chiusura di telegiornale si svolgerà domenica 26 novembre la prima edizione della mezza maratona delle marine garapodistica che interesserà i comuni di Montenero San Salvo e Vasto la corsa era stata rinviata a causa del maltempo dei giorni scorsi sul litorale Adriatico Molisano ed Abruzzese con questa notizia noi ci fermiamo qui grazie a voi tutti arrivederci